Sempre in ambito della campagna di sensibilizzazione della nostra testata sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, andiamo a vedere stasera com'è la situazione in due paesi a noi vicini, l'Austria e la Slovenia. Le norme sulla prevenzione antinfortunistica sono simili a quelle in vigore in Italia e seguono anche le normative dell'Unione Europea, ma al grado ciò in entrambi i paesi la frequenza degli infortuni continua ad essere significativa. Ce ne parla Walter Schkerk. Nel 2011 in Austria ci sono stati 117 casi di morti sul posto di lavoro, di queste addirittura 53 nel settore dell'agricoltura e della silvicoltura, nell'industria 16, 10 nell'edilizia. A morire sul posto di lavoro in Austria sono quindi soprattutto boscaioli e agricoltori, una frequenza dovuta alla geografia alpina del paese, ribaltamenti di trattori e cadute di tronchi le cause più frequenti. Nelle fabbriche e nelle officine invece, grazie al modello di partenariato sociale tra imprenditori e sindacati, gli standard di sicurezza sono elevati. Grande attenzione viene posta all'educazione antinfortunistica, materia che viene insegnata anche nelle scuole dell'obbligo. In Slovenia le attività antinfortunistiche sono competenza del Ministero del Lavoro che riceve anche le denunce degli incidenti. Nel 2011, nella vicina Repubblica, ci sono state 20 disgrazie sul posto di lavoro con esito mortale, nei trasporti 7 ed hanno riguardato camionisti e ferrovieri. Nel settore delle costruzioni ci sono stati 5 incidenti, tutti provocati da carichi sospesi. Nell'industria ci sono stati 3 incidenti mortali, nell'agricoltura e silvicoltura 4. L'Ispettorato sloveno al lavoro però segnala che il dato di 4 morti in agricoltura non è attendibile in quanto riguarda soltanto i dipendenti. Gli infortuni occorsi a agricoltori, che sono anche titolari delle imprese o pensionati o per i quali l'attività agricola è di fatto un secondo lavoro, non è compresa nelle statistiche fatte in base alle assicurazioni antinfortunistiche. In Slovenia poi il giorno in cui succedono più infortuni è lunedì. E parliamo ora di malattie asbesto correlate, ossia di quelle patologie professionali contratte da chi è stato esposto all'amianto, un materiale molto utilizzato negli anni 60 e 70. Una realtà purtroppo assai nota nella nostra regione, in modo particolare a Trieste e a Monfalcone. Maurizio Mervaro. 13 condanne che hanno segnato un momento storico nella tragica epopea isontina dell'amianto. Il primo processo per le morti dei lavoratori ai cantieri di Monfalcone, conclusosi lo scorso ottobre dopo oltre tre anni di dibattimento e 91 udienze, aveva visto anche l'intervento del presidente napolitano che nel 2008 si adoperò per far procedere le indagini. 85 erano gli operai distrutti dal mesotelioma pleurico e dal carcinoma asbesto correlato. Dei 35 imputati originari vennero scagionati i dirigenti delle ditte esterne appaltatrici e di responsabili interni della sicurezza, lasciando quindi solo ai 13 dirigenti di vertice dell'allora Italcantieri la responsabilità finale dell'uso della fibra. Il processo amianto bis per altri 72 decessi di lavoratori del cantiere di Monfalcone è invece alle fasi iniziali. Gli imputati in questo caso sono 19, fra di essi c'è buona parte dei dirigenti già condannati nel primo procedimento. Del processo amianto terri invece si è celebrata due giorni fa l'udienza preliminare che proseguirà l'8 luglio. 42 in questo caso le persone decedute e 17 gli imputati, sempre gli stessi dirigenti del cantiere, a cavallo tra gli anni 60 e 70. In questo procedimento però i parenti di alcune vittime non si costituiranno parte civile poiché hanno già raggiunto degli accordi di risarcimento con fincantieri. Ma proprio sul fronte dei risarcimenti, l'avvocato Cattarini, rappresentante dei familiari di una vittima, ha preannunciato la richiesta di sequestro conservativo sui beni di alcuni imputati. Un'evoluzione processuale del tutto nuova che si fa forza delle condanne ottenute nel primo procedimento e che se accolta dal giudice segnerebbe l'ingresso in campo degli interessi personali individuali dei dirigenti e non solo di quelli dell'azienda. La dimensione che ha assunto la problematica dell'amianto nel risontino è sicuramente qualcosa che sta sfuggendo un po' alla gestione del sistema della sicurezza e della salute dei lavoratori. Noi come fondazione ci prefigiamo tre obiettivi l'assistenza domiciliare alle persone che sono state colpite da questa malattia mettere in piedi un gruppo di persone specializzate che possa sostenere le famiglie e un terzo punto molto importante è quello della ricerca scientifica diagnosticare in modo più precoce la malattia delle cure che migliorino l'aspettativa di vita delle persone che sono state colpite dall'amianto.